Ciao a tutti i fan di Max Gamer Official, io sono l'impostore, però vi devo dire una cosa, questo qua è il terzo episodio di Contro Horux che stavamo combattendo, ma fino a quando non è successa una cosa molto strana. Stavamo combattendo e lui è scomparso, e in versione invisibile ci ha detto una strana cosa. Tipo, io me ne vado, me ne vado via, perché mi avete dato un sacco di botte, eravate troppi e noi eravamo due. Ce l'abbiamo fatta, questo è un segno positivo. Però ci ha detto un'altra cosa, avete battuto me, ma non mio fratello, che sta per arrivare. E ci ha detto pure un nome, d'altro non sono solo, c'è pure Max Gamer Official, allora ve lo faccio vedere subito. Max, ora glielo spieghi tu. Comunque, ci ha detto delle cose molto strane, tipo c'è mio fratello che adesso sta per arrivare. Max, di qualcosa tu. Oh sì ragazzi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sì. Tra l'altro io sono qua con l'impostore, che siamo qui, che noi non sappiamo cosa fare, perché è vero. Stavamo combattendo, abbiamo dato un sacco di calci a Dark Oscurative, pure Dark Oscurative. Ha detto sta arrivando i nostri fratelli che adesso vi distruggeranno. E ci hanno detto dei nomi. Uno si chiama, se non mi sbaglio, Max Oscurative, e un altro si chiama Max Horx. Max Horx, e ci hanno detto che questi qua sono loro fratelli. Uno si chiama Max Oscurative, e l'altro si chiama Max Horx. Cosa ne pensi impostore? C'è però un problemino che forse te ne sei accorto pure tu. Ecco, vedi, ci sei arrivato pure tu. Non ho controllato sul computer. E questa cosa mi fa molto molto arrabbiare. Aspetta Max, mettiti qua, dispostati. Questa cosa mi fa veramente moltissimo arrabbiare. Io sono l'impostore, come potete vedere, con la mia uniforme. Io sono così tranquillo, Max, perché so che io sono molto forte. Cosa vi pare? Vedete che io sono l'impostore, quello che ha fatto un sacco di cose. Quello che ha distrutto tantissime cose. Quello che ha creato non so quante pozioni. Io sono il più forte del mondo, lo dimostrerò. Adesso basta, mi sono arrabbiato. Credo, Max, che succederà qualcosa di strano, credo. Mi sento una cosa dentro, tipo una specie di rabbia. Credo che mi trasformerò in qualche super impostore, perché sono troppo arrabbiato con Orcs e con tutti. Perché non è possibile. Dovevo governare il mondo. Ah, tra l'altro, ti devo dire una cosa che ti fa arrabbiare. L'Aston Villa te l'ha fatta distruggere Orcs. Me l'ha detto a me. Mentre che se ne andava, ha detto, l'Aston Villa mica sono stato io a distruggerla. Mentre lo dovevo fare io. E quindi mi sono arrabbiato. Oh, ragazzi, non ho mai visto un impostore così arrabbiato. Comunque sì, è stato lui a farmi cancellare l'Aston Villa. Vabbè. Io intanto a gennaio porterò una nuova serie. Ragazzi, tra l'altro, vi volevo informare su quella serie che noi non... Diciamo che non farò un video in cui c'è una strada bellissima, come avevo detto prima. Farò tipo come l'Aston Villa, che noi ci trasferiamo in un postaccio che dobbiamo fare rigovernare. Tipo, lo dobbiamo fare rinnovare di nuovo. Ma secondo te è il momento di pensare al futuro? Dobbiamo pensare ad adesso. E cosa vuol dire che stanno arrivando uno che si chiama Max Orcsti? E uno che si chiama Max Oscuritiv? Cosa vuol dire? Chi sono questi? Se uno si chiama Dark Oscuritiv, che è il cattivo di Fortes, è il mio fratello. Cosa c'è tra uno che si chiama Max? Cos'è tuo fratello per caso? Non credo sei qualche infiltrato che vuole entrare a far parte di noi, però poi ci vuoi distruggere, vero? Impostore, ti sei evoluto, però mi sa che ti hai girato qualche rotella perché non conosci Max. Io sono Max GamerOfficial, non mi metto contro i buoni, mi metto con i buoni, no contro. Quindi, in pratica, io sono con voi. Quei cattivi, non so se si sono distrutti, disintegrati, non so cosa. Ma adesso, dobbiamo pensare. E voi due, chi cavolo siete? Adesso hai pure il coraggio di farti vedere. Vabbè, ti vuoi mettere conto di me? Io sono super impostore! Cosa? Ma scompasso! Continua.